Complimento ai vincitori, è stato combattuto anche sull'ultima quarta prova, nonché la terza era stata annullata per cause ancora da individuare che qualcuno abbia, da parte del pilota, dice che ci sia una pietra in metà alla strada, bensì è stata annullata questa prova, non sappiamo ancora il motivo giusto, è da vedere con la camera, ragazzi, questo lasciamo mano all'organizzazione di chi di dovere, ma vado a vedere, se la sono giocata l'ultima prova, lui è passato veramente il peggio di una C6, il peggio di due, lo vivrà veramente tutta con un razzo, il peggio di una freccia rossa, grazie di esistere, ci vediamo abbastanza, grazie Emilio, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.